Siamo con Beko dell'Alba-Roma, 1-1, forse un po' di rammatico per una vittoria che è mancata e che poteva sicuramente arrivare. Sì, tanto rammatico, innanzitutto faccio i complimenti alla squadra avversaria perché ha disportato un'ottima partita, soprattutto un buonissimo primo tempo. Dove tra l'altro insomma abbiamo preso una traversa, abbiamo una buona occasione, il portiere ha fatto un miracolo e quindi potremmo quanto meno finire il primo tempo in pareggio. C'è stato anche un episodio che ci ha visto un po' sfavoriti perché è stato fiscato un fuorigioco che non c'era, l'assistente non ci ha fatto a fine interazione e ha alzato prima la bagnerina. Purtroppo insomma anche al Vars era visto che era regolare. Purtroppo, niente, lasciamo questi due punti e ripartiamo dalle prossime con di grande intensità per cercare di recuperare il terreno che poi ci abbiamo perso. Allora un ingrande in bocca al lupo all'Alba-Roma. Grazie, alla prossima.